Raga, montagne, anche se mi piace, che magari a uno che ha appena iniziato a giocare come a me mi piaceva, è infatti uno dei primi che ho shoppato, se volete un consiglio ragazzi shoppatelo per ultimo montagne, cioè per ultimo tra quelli da mille ovviamente perché non vi serve a niente quando ancora non lo sapete usare, capito? Sopritemi mentre eric... Sopritemi mentre ericite... No, no, no. 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 No, no.